Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di G News, l'informazione quotidiana dei SuperJ. La cronaca in primo piano ci porta nelle Marche. Si è tolto la vita con un colpo di pistola alla testa all'interno della vettura parcheggiata appena fuori da Villa Falconi, nel quartiere Luce di Sant'Epidio al mare a trovare morto Francesco Maria Silenzi, intorno a mezzogiorno di oggi il parroco di Santa Caterina uscendo dalla chiesa che si trova proprio all'interno della storica di Mora. Aveva 46 anni, era commercialista ed era il capo del gruppo storico degli sbandieratori e musici della Contesa del Secchio. Per anni ha incantato il pubblico di Mezzomondo con le sue straordinarie evoluzioni e con le bandiere. Sul posto sono intervenuti la Croce Azzurra, i carabinieri, la Polizia Municipale. La salma poi è stata composta nell'ospedale Murri di Fermo. Restiamo nelle Marche. Un ventunenne di nazionalità albanese, da tempo residente a Sasso Corvara, morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Trebis-Feltresca. Il giovane affrontando una curva ha perso per causa in corso di accertamento il controllo della sua vettura che si è poi schiantata di lato contro un'altra auto che sopraggiungeva nella corsia opposta. Il ventunenne è morto praticamente sul colpo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Urbino. Un venditore ambulante di ortofrutta di 22 anni del Foggiano è stato arrestato assieme al padre dopo aver aggredito un vigile urbano che a Chiaravalle gli aveva detto di spostare il suo furgone da un posto di sosta per i disabili. Il giovane ha inviito contro la gente, gli ha lanciato addosso degli ortaggi ed ha perfino simulato un investimento. Poi si è scagliato contro i carabinieri, ha corsi sul posto, spalleggiato dal padre. Tutte e due ovviamente sono finiti in manette. Restiamo nelle Marche, sempre con la crona. Cooperazione Scatole Cinesi da parte delle Fiamme Gialle di Senigallia. Scoperta una maxifrode fiscale di oltre 6 milioni di euro. Le indagini sono partite da alcuni documenti trovati nei bidoni dell'immondizia particolari del servizio. La Guardia di Finanza di Senigallia ha scoperto una grossa frode fiscale che ruotava attorno ad aziende tessili cinesi con un giro d'affari di circa 6 milioni di euro. Nove gli imprenditori cinesi denunciati per non aver mai versato imposte al fisco. L'operazione in codice Scatole Cinesi ha riguardato Senigallia, Tre Castelli e Castelleone di Suasa. A far scattare l'inchiesta è il fiuto di un agente della Guardia di Finanza che ha scovato documenti in bidoni della spazzatura. Si è scoperto così che alcune delle imprese coinvolte, costituite per lo più in forma individuale, dopo circa due anni cessavano la produzione. A loro posto ne subentravano altre, costituite appositamente, che svolgevano la medesima attività utilizzando gli stessi locali aziendali e macchinari e allacciando rapporti commerciali con i vecchi clienti e fornitori. La gestione formale dei laboratori era affidata ad ex dipendenti delle ditte chiuse e il meccanismo consentiva di evadere sistematicamente le imposte dovute. Dietro ogni nuova impresa c'era però sempre lo stesso soggetto cinese che curava materialmente i rapporti con i clienti, i fornitori e gli istituti di credito. Il GIP di Ancona ha disposto il sequestro preventivo per equivalente agli indagati di beni immobili e immobili per un valore complessivo di circa 2 milioni fra denaro contante, assegni, conti corrende e crediti presso terzi. Confiscati anche 99 macchinari, 6 immobili e 4 autovetture. Con la cronaca ora ci spostiamo in Abruzzo. Raid Vandalico la scorsa notte a Chieti all'interno dello stadio del nuoto. I nuoti nel cuore della notte si sono penetrati nell'impianto e utilizzando grosse mazze da muratore ma anche un ascia hanno sfondato pareti divisori di velto in impianti doccia, ha messo a soquadro gli uffici, ha aperta anche una cassaforte dall'esterno dal quale sono state portate via circa 1.500 euro i danni, secondo una prima stima, monterebbero però a circa 50.000 euro. Restiamo nel teatino. È stato accidentale lo scoppio della caldaia alla scuola elementare di Villa Santa Maria avvenuto mercoledì mattina alle 7.45 prima che gli alunni entrassero all'interno dell'edificio. Questa è la prima ipotesi tecnica degli ispettori dell'ASL contenuta negli atti di indagini depositati oggi dai carabinieri al pubblico ministero Rosaria Vecchi. La deflagrazione è avvenuta per un'avaria della valvola dell'impianto energetico. Il magistrato verificherà ora se ci sono eventuali responsabilità di natura colposa per l'accaduto. Ed ora ci spostiamo a Tortoreto. La vicenda legata al trasporto scolastico si arricchisce di un nuovo particolare. Per un inconveniente è uno degli scuolabus. Infatti la rottura di lunotto su strada viene messo un mezzo sostitutivo come da convenzione. Lo scuolabus però molto datato viene multato dai vigili urbani su sollecitazioni di un genitore perché ha le gomme lisce. L'episodio portato alla luce dal Movimento 5 Stelle è accaduto ieri. Uno dei bus infatti in dotazione alla società Frate Arcangeli che ha vinto il recente appalto per i prossimi dieci mesi non può effettuare servizio mattutino perché si era rotto il lunotto. La società rispolvera dunque un vecchio scuolabus che garantisce il trasporto ma anche in ritardo. Il mezzo però le gomme lisce e i vigili urbani ovviamente davanti alle scuole vanno ad appioppare la multa. La questione ovviamente solleva anche polemiche di natura politica. Possibile che succeda tutto alla stessa ditta. Si legge una nota del Movimento 5 Stelle. Dobbiamo veramente aspettare che accada qualcosa ai nostri bimbi. Questa è un'altra delle riflessioni del Movimento 5 Stelle. Restiamo sempre a Tortoreto con la cronaca. Ladri fanno scorta di derrate alimentari nella scuola materna e asilo nido gestita dalle suore del bambino Gesù a Tortoreto per l'appunto. I ladri hanno rotto una porta a vetro e si sono introdotti nei locali dove hanno asportato una serie di derrate alimentari usate nella mensa della scuola materna per un valore di circa 1.500 euro. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione. Lasciamo la cronaca, apriamo la pagina di politica tornando nuovamente nelle Marche. A Fermo si lavora già per il dopo Brambati. Nel centro-destra il primo obiettivo è quello di dare vita a una coalizione unita, capace di fare sintesi tra le varie anime. Tra le papabili alla candidatura a sindaco c'è anche Maria Antonietta Di Felice, attuale capogruppo in Consiglio Comunale di Forza Italia. Vediamo. Innanzitutto dobbiamo sottolineare che si è trattata della fine della politica perché mandare a casa un sindaco ricorrendo al notaio è sicuramente voler sfuggire a un momento clu importante, ritrovarsi in Consiglio Comunale, verificarsi tra le forze politiche e eventualmente sfiduciare il sindaco ed andare tutti a casa, cosa legittima. E d'altra parte abbiamo contribuito anche noi a quest'ultimo passaggio perché anche noi siamo andati a firmare dal notaio. È chiaro che il PD ha serie responsabilità su questa operazione finale e vuole scaricare tutto sulla Brambatti. Noi stiamo lavorando già dal momento delle dimissioni del sindaco perché comunque c'è stato un mese in cui non aspettavamo certo il ritiro delle sue dimissioni per fare un'unione dei moderati fermani per lavorare ad un programma condiviso e quindi giungere tutti insieme anche a trovare un candidato sindaco condiviso che ci possa portare a tornare a governare fermo. Suo background la danno come probabile candidato sindaco per il centro-destra. No, non siamo arrivati. Io ringrazio qualche amico a cui sono simpatica evidentemente che fa il mio nome. non siamo a questo livello. Stiamo davvero lavorando a costruire una coalizione forte. Poi arriveremo a definire il candidato sindaco. Ci sono personalità importanti e capaci per il governo e la città e vorremmo lavorare con tutti per un risultato finale, unico, vincere fermo. Il presidente della regione Marche, Gian Mario Spacca, ha inviato oggi al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, una lettera in cui conferma la richiesta di dichiarazione dello Stato di emergenza allegando il rapporto preliminare relativo ai danni provocati dal maltempo lo scorso 4 di febbraio nelle Marche che danni ammonterebbero a quasi 80 milioni di euro. L'auspicio, dice Spacca, è che la richiesta venga recepita quanto prima dalla presidenza del Consiglio e che siano stanziate le risorse necessarie. Ed ora a Teramo. Un atto dovuto perché Marco Pannella ha consentito alla comunicazione politica di evolversi e ha contribuito allo stesso cambiamento politico, al cambiamento delle istituzioni e del Paese. Così il rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, ha salutato l'aula magna dell'Università di Teramo che non è riuscita a contenere il pubblico a corso per il conferimento della Laura Honoris Causa, appunto al storico leader dei radicali. Un interprete del linguaggio, dei segni, traduce gli interventi. Noi siamo solo onorati di poter conferire la Laura a Marco Pannella, aggiunto lo stesso rettore D'Amico, leggendo poi un messaggio inviato dal Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ma ascoltiamo una dichiarazione rubata al leader radicale da Walter Cori qualche istante prima dell'inizio della cerimonia di conferimento della Laura, ricordando ovviamente che una puntata speciale dell'approdo di questa sera sarà proprio dedicata a questa manifestazione. Vediamo. Allora Marco, due minuti di forte emozione in una giornata meravigliosa che non è insomma, che la si può vivere tutti i giorni. Ti chiedo se ti sei più emozionato scendendo le scale oppure quando hai visto scorrere le immagini di Coscione. Qual è stato il momento più forte? Beh, in effetti è quello. È lungo perché c'erano anche le varie fasi con lui. Ma riesci in questo momento ad essere lucidissimo per raccontarci... Guarda, mi sono emozionato io. No, ma voglio dire, credo di essere lucido, lucidissimo, perché vedo delle cose patenti. Ho anche detto, vabbè, alla fine se proprio avete bisogno di un punto di riferimento, per esempio, quello che sta accadendo è ascesi. No, è ascesi, che è la cultura vera, profonda del corpo e dell'anima. Però rimane meraviglioso il fatto che sia stato l'Abruzzo Teramo a renderti questo omaggio. Certo, ma devo dire, conoscendo il Terramani... Non sei sorpreso. No, appunto, sono felice, appunto. Grazie Marco. Di nuovo nelle Marche a San Benedetto. La commissione di indagine conoscitiva sullo stadio Rivera delle Palme ha terminato il suo lavoro, che ha interessato lo svolgimento dei lavori di ampiamento dello stadio. Durissimo è il presidente della commissione, Pierluigi Tassotti, che annuncia che tutti i dati raccolti durante l'inchiesta verranno ora inviati in procura per fare chiarezza sulla vicenda. Sentiamo un'intervista. Diciamo che per me questa è l'ultima tappa, almeno spero che lo sia, insomma, perché io con oggi chiudo, diciamo, il lavoro svolto dalla commissione, invio tutti gli atti, tutte le considerazioni e le valutazioni che noi abbiamo fatto e l'invio alle autorità competenti affinché possano loro far luce e chiarezza su tutto quello che è avvenuto in questi anni attorno allo stadio Rivera delle Palme. E' stata la fine, purtroppo, che siamo stati costretti a fare, anche perché non c'è stata la possibilità di fare chiarezza. nonostante fosse stata... si era insediata una commissione più di un anno e mezzo fa, voluta dal Consiglio Comunale e in primis dal sindaco Gaspari, che doveva far luce su appunto dei lati di questa vicenda. La commissione è presiduta da me e già all'inizio c'erano stati i primi segnali di boicottaggio in quanto hanno sempre ostacolato la mia presidenza e nonostante, insomma, direi che l'aspettassero la minoranza, ma loro non vedevano in me il presidente probabilmente che loro pensavano di poter eleggere. La commissione si è insedata appunto il 23 novembre, ha concluso i suoi lavori l'8 agosto, abbiamo fatto 12 sedute e abbiamo prodotto una relazione, una sola relazione finale, che è la mia, anche se chiaramente non condivisa dai consiglieri di maggioranza, però comunque agli atti risulta una sola relazione a conclusione dei lavori. Nonostante poi il presidente del Consiglio, probabilmente omettendo alcuni suoi doveri, non ha permesso la discussione in consiglio di questa relazione. Quindi entrare nel dettaglio chiaramente non è semplice, insomma, noi abbiamo rilevato in questa nostra valutazione e considerazione, abbiamo rilevato numerose criticità all'interno della gestione dei lavori di Vila delle Palme, e oltretutto tenendo conto che era un appalto pubblico per quasi 8 milioni di euro, quindi un appalto pubblico abbastanza importante, fatto su un bene comunale. Secondo noi l'amministrazione non ha vigilato in maniera giusta e il finale purtroppo di questa situazione è che ci ritroviamo dopo 4 anni con uno stadio non angoraggibile, con un milione di euro di debiti circa, con comunque un privato che sfrutta l'energia fotovoltaica e quindi ha un guadagno, con la Samettese Calcio Società, che sicuramente da tutto questo non trae beneficio come invece era partito il progetto qualche anno fa. Ancora con la politica marchigiana, l'Onorevole di Forza Italia Antonio Tagliani all'Hotel Royal di Casa Bianca di Fermo ha incontrato gli esponenti locali del partito in vista delle imminenti elezioni regionali. Ad accoglio è oltre 100 persone, tra industriali e militanti, tra loro anche il Presidente della Camera di Commercio di Fermo, Graziano Di Battista, e quello di Confindustria, Andrea Santori. Vediamo. Intanto che vogliamo vincere per creare un progetto che permetta alle Marche di poter diventare una regione centrale, non una regione marginale nel contesto dell'Italia centrale. Vogliamo vincere che creando una coalizione forte alle regionali, noi avremo il nostro candidato da proporre al tavolo per raggiungere un accordo più vasto, poi naturalmente siamo disposti a discutere, a confrontarci con tutte le forze che vogliono creare un'alternativa al Partito Democratico. Ci sono, dopo le note vicende che hanno portato ad una frantumazione della sinistra, le condizioni per vincere. Noi siamo qui perché vogliamo organizzare la vittoria. Però per quanto riguarda discussioni, fratture e un po' di discordia c'è anche in Forza Italia, questo va riconosciuto in questo momento particolare? Qua stiamo parlando della regione Marche, come pare di Forza Italia, la regione Marche è coesa, è il gruppo regionale più importante d'Italia, ci sia una sostanziale unità, una grande voglia di fare, dopo fermo sarò oggi a Macerata per sostenere il nostro partito, cominciare a preparare una campagna elettorale parlando di cose concrete, di piccole e medie imprese, di economia reale, come uscire dalla crisi. Questa è una regione industriale che non deve perdere questa caratteristica. Quando parlo di industria parlo anche di turismo, parlo anche di agricoltura. quindi non possiamo far perdere a questa regione una identità che le ha permesso negli anni passati di essere una delle regioni d'Italia dove la crescita aveva percentuali molto alte. Purtroppo la situazione sta cambiando, dobbiamo invertire la situazione con una buona politica e vogliamo essere punto di riferimento delle industrie, delle piccole e medie imprese, dei commercianti, degli agricoltori e del mondo delle libere professioni. Insomma, riprenderci lo spazio che ci tocca. Ci occupiamo ora di sanità. Domani ad Atri con il raduno in piazza Duchi degli Acquavivi a partire dalle 9. Il Comitato San Liberatore non si tocca chiama a raccolta tutta la cittadinanza del comprensorio contro la paventata chiusura del punto nascita dell'ospedale a Triano. La manifestazione si legge in una nota del Comitato. Hanno già dato alla loro adesione tutte le sigle sindacali, il Comune di Atri con le varie forze consigliari, diversi esponenti regionali delle varie forze politiche ed una rappresentanza del Comitato a difesa del punto nascita dell'ospedale di Cernusco sul Naviglio che verrà appositamente adatti per dare il proprio sostegno. Prevista altresì una messiccia presenza di cittadini. Dopo il raduno in piazza ci si dirigerà in corteo, appunto, in direzione ospedale San Liberatore. La ASL di Teramo ha donato tre ambulanze che, secondo le normative vigenti, non possono essere più utilizzate dalla stessa azienda sanitaria ma che sono ancora in ottimo stato. Due vanno all'associazione Lions Club di Teramo e uno all'associazione Oallus Valle San Giovanni, sempre di Teramo. Le prime due si aggiungono a quelle già donate in passato, che da tempo ha attivato il Lions Club Teramano per l'appunto, un progetto di assistenza sanitaria a favore delle popolazioni bisognose delle zone interne del Marocco. La terza, invece, verrà messa a disposizione della Oallus di Valle San Giovanni che utilizzerà a scopi sociali per il trasporto secondario degli infermi, secondo quanto previsto dallo stesso Statuto di Natura Associativa. Ed ora ci occupiamo di erosione costiera in Abruzzo. Interventi a chiamata con l'impiego di pompe idrovore per combattere l'erosione della costa abruzzese, una sorta di pronto intervento contro i pesanti danni subiti dal litorale. Dal punto di vista tecnico si tratta di un ripascimento superficiale morbido con pompaggio della sabbia. La tipologia di intervento che la regione Abruzzo intente adottare entro la primavera per andare incontro alle esigenze dei balneatori, considerando anche le limitate disponibilità finanziarie dei comuni, particolari nel servizio. E' sicuramente una forma similare a 118, laddove c'è problema c'è un numero che gli enti locali e gli operatori possono fare e dall'altra parte risponde un operatore che è quello delle draghe idrofore che noi mettiamo a disposizione e che interviene in breve tempo a mettere la sabbia, quindi a fare il ripassimento superficiale con il pompaggio della sabbia sulle coste. Quali le motivazioni alla base di questa decisione, di questa strategia da adottare? In un momento in cui le risorse sono sempre più ridotte bisogna far funzionare la fantasia. Noi avendo avuto circa due mesi di concertazione con gli operatori, con gli enti locali che si trovano quotidianamente di fronte a questi problemi, abbiamo avuto questa idea che ci è stata suggerita che la riteniamo positiva e riteniamo soprattutto questa idea una cosa da poterla spingere negli anni per far sì che di fronte a esigenze immediate noi rispondiamo con risposte immediate. Due flash, le risorse da impiegare e anche l'operatività del sistema. L'altro aspetto fondamentale è che bisogna mettere a punto un sistema che non vada a complicare l'habitat della costa, quindi il sistema sotto l'aspetto della sostenibilità, della compatibilità. Lavoreremo nella direzione che pur trattandosi di un fatto oramai indispensabile a portare avanti lo si faccia in una maniera che crei il meno possibile danno alla florefauna della nostra costa. Ed ora di nuovo a San Benedetto. È stato presentato il piano dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile da Via, Via Gino Moretti a Via Cursi che partiranno lunedì prossimo appunto a San Benedetto. L'assessore dei lavori pubblici Leo Sestri sottolinea l'importanza di questi miglioramenti finalizzati soprattutto alla sicurezza dei pedoni. Vediamo. Lunedì partiranno i lavori per questo tratto di pista ciclabile? Sì, allora lunedì partono questi lavori, è un tratto di pista ciclabile seguendo un po' quello che già noi abbiamo fatto nella parte più ad ovest, via Manara, dove in pratica le ringhiere che verranno apposte saranno a sbalzo quindi guadagneremo anche un po' più di spazio per la pista ciclabile ma soprattutto questo intervento è importante per la messa in sicurezza dei pedoni i quali oggi transitano in uno spazio che è sicuramente pericoloso invece con queste ringhiere a sbalzo così fatte, così come lo abbiamo fatto stiamo un po' piano piano sopperendo a quello che per anni diciamo è esistito noi pensiamo anche di poter ulteriormente andare avanti quindi superare anche via Toscana e quindi fare anche queste ringhiere a sbalzo fino a via De Gasperi e successivamente arrivare anche verso via Lungomare perché? Perché come abbiamo detto anche poco fa è importante per noi migliorare la qualità della vita dei cittadini di San Benedetti e in particolare tutti quei residenti che stanno un po' verso Ponte Rotto, verso il Paese Alto oggi hanno la possibilità con la nuova pista ciclabile e credo che sia stato un po' un successo perché abbiamo ottenuto sicuramente tante soddisfazioni da parte dei cittadini che abitano lì quindi oggi hanno la possibilità di prendere la bicicletta con i loro figli, i loro nipotini e andare verso il centro della città adesso noi vorremmo farli arrivare fino alla spiaggia in modo tale non rischiano noi conosciamo bene via Manara quale pericolosità ha questa strada per cui insomma il nostro obiettivo è fare questo in questo progetto abbiamo anche parlato di un portare la pista ciclabile anche passando per il via Cursi verso il corso difatti l'assessore Spadoni ha un po' illustrato anche questa possibilità comunque ripeto questo intervento fa capo a quel finanziamento che il Ministero dei Lavori Pubblici ha concesso a San Benedetto per la messa in sicurezza dell'albola e oltre a queste somme che già abbiamo speso è in procinto di partire speriamo nel giorno di 15 giorni anche quel progetto che si riferisce al pennello e questo è come ripeto un progetto che serve anche a migliorare la qualità di questo torrente la pagina dell'economia ora ancora segnali allarmanti arrivano dal mondo artigiano la confartigianato di Ascoli Piceno infatti sulla base dei dati forniti dal proprio centro studio ha correlato la consistenza delle imprese artigiane con la dinamica tendenziale dei prestiti concessi allo stesso settore di economia emerge dunque un quadro a tinte fosche dove la diminuzione del credito corrisponde anche ad una diminuzione delle imprese lo scorso anno dicono le statistiche nel Piceno le imprese artigiane sono diminuite del 2,1% restiamo in argomento in qualche maniera l'importanza strategica del Marocco per quanto concerne il settore della pesca sia dell'oceano atlantico che nel bacino del Mediterraneo impone una presenza più strutturata per la cosiddetta blue economy del distretto di San Benedetto del Tronto con questi presupposti il presidente della Camera di Commercio di Ascoli Gino Sabatini annuncia l'intenzione di aprire un proprio ufficio di rappresentanza appunto in Marocco nella cittadina di Casablanca con il lavoro sempre nelle marche dalla CGL di fermo arrivano nuove critiche alle riforme del mercato del lavoro messe in atto dal governo Renzi ascoltiamo in proposito il rappresentante sindacale appunto della CGL vediamo il Jobs Act come soluzione sentendo il governo per tanti problemi occupazionali ma come stanno realmente le cose in questa fase ancora molto calda della discussione il Jobs Act aumenta i problemi per i lavoratori e per chi il lavoro non ce l'ha perché di fatto sia il Jobs Act 1 sui contratti a tempo determinato che il Jobs Act 2 in particolare sulla questione dell'articolo 18 peggiora assolutamente la situazione precarizzando ulteriormente i rapporti di lavoro questi atti dalla legge delega e dei decreti poi attuativi della legge stessa di fatto è un attacco al mondo del lavoro e a chi il lavoro non ce l'ha perché togliendo l'articolo 18 nelle aziende si toglie la libertà sindacale e soprattutto la libertà del lavoratore perché l'articolo 18 è il diritto dei diritti io esercito un diritto come quello della sicurezza della salute perché so che non posso essere licenziato liberamente esercito il diritto all'iscrizione al sindacato perché so che non posso essere licenziato liberamente nel momento in cui posso essere licenziato per capriccio io tutti gli altri diritti non potrò più esercitarli in primis quello della salute e della sicurezza quindi perché si dice che precarizzando aumentano i posti di lavoro quando mai in un'azienda se tu precarizzi il rapporto di lavoro aumenti il lavoro il lavoro aumenta solo se c'è un progetto serio una politica industriale seria il lavoro aumenta quando crea i posti di lavoro tutto il resto è demagogia restiamo in argomento in qualche maniera dopo le tante proteste degli ultimi mesi da parte dei ragazzi coinvolti nel progetto Garanzia Giovani sono in arrivo i primi pagamenti per i tirocinanti nonostante le difficoltà in molti hanno però visto in questa iniziativa una possibile soluzione contro la pesante disoccupazione che affligge il mondo giovanile vediamo in un paese come l'Italia dove l'alta disoccupazione giovanile tende a scoraggiare tanti ragazzi il progetto Garanzia Giovani lanciato qualche mese fa doveva essere un rimedio a questa pesante situazione purtroppo tanti ragazzi che negli scorsi mesi hanno iniziato un tirocinio e perso le aziende marchigiane non sono stati ancora rimunerati in tanti si sono rivolti ai sindacati e alla legge per ottenere quello che è un saccosanto diritto in questi giorni la regione Marche ha comunicato che entro i primi giorni del mese di marzo saranno erogati i primi pagamenti dei tirocinanti è arrivata infatti una nota del Ministero del Lavoro che consegna all'Inps un milione e mezzo di euro che saranno destinati ai pagamenti tanto attesi dai giovani la regione informa inoltre che bisognerà però attendere i tempi tecnici necessari l'accredito dei fondi è stato risolto anche il problema delle trattenute fiscali sulle indennità di partecipazione per i tirocinanti che si vedranno così restituite le somme trattenute sulle indennità di settembre e ottobre nonostante le tante problematiche emersi in questi giorni dai dati emerge che nelle Marche il programma sta ottenendo migliori risultati rispetto a quelli nazionali la percentuale dei registrati sul bacino potenziale è pari al 62% contro il 22% a livello nazionale nel dettaglio i tirocini marchigiani hanno interessato 1573 giovani diplomati 760 laureati e 383 giovani con la licenza media il comune di Ascoli Piceno e l'associazione cittadinanza attiva con l'obiettivo di migliorare la qualità, l'efficacia e l'accessibilità dei servizi resi dall'amministrazione hanno inviato un progetto di customer satisfaction che interesserà per il momento il settore della pubblica istruzione a partire infatti dal lunedì prossimo verrà distribuito in tutte le scuole del territorio un questionario che servirà a valutare il grado di percezione e soddisfazione dei servizi scolastici resi alle famiglie in base ai risultati poi che si otterranno verrà dato un documento pubblico e condiviso nel quale saranno evidenziate le priorità per le quali l'amministrazione nel caso sarà chiamata ad intervenire e a dare risposta ai bisogni dei cittadini Ed ora in Val Vibrata l'amministrazione comunale di Sant'Omero patrocinerà il progetto azzardo non chiamiamolo gioco progetto promosso dalla fondazione Exodus Onlus dalla casa del giovane di Pavia unitamente ai patrocini del Senato della Repubblica il progetto nasce dall'esigenza di informare e concorrere a prevenire il fenomeno della ludopatia del gioco d'azzardo l'intento è quello di contrastare la ludopatia sotto qualsiasi forma scrive in una nota il vice sindaco con delega alle politiche sociali Tatiana Iachini nell'illusione di poter dare una svolta alla propria vita infatti soprattutto nei momenti di crisi come quelli attuali in molti ovviamente ricorrono a questa tipologia nell'ambito della stessa iniziativa è prevista per il prossimo 7 di marzo l'hotel Lago Verde di Sant'Omero la presentazione di una mostra itinerante ancora con le politiche sociali ci spostiamo sulla costa a Tortoreto la giunta municipale infatti mette a disposizione 10.000 euro per aiutare le famiglie che non riescono a sostenere i costi dell'affitto ogni famiglia potrà averne al massimo 1.800 per evitare lo sfratto e dunque stipulare eventualmente un nuovo contratto in particolare nel servizio abbiamo prima in consiglio comunale stanziato una risorsa non alta ma era quella possibile di 10.000 euro per fronteggiare il problema sfrattati poiché al momento non abbiamo delle abitazioni ATER da poter fornire in questi casi e quindi abbiamo studiato per realizzare un progetto al fine di aiutare il disagio immediato sia degli sfrattati quindi per la caparra per affrontare un nuovo contratto quindi la base per poter fare una caparra per un nuovo contratto o comunque dei canoni mensili anticipati sono tre mensilità fino a sei per cui gli sfrattati hanno modo di avere una base per poter trovare una seconda abitazione o per poter eventualmente portare avanti il contratto esistente con l'attuale proprietario purché quest'ultimo si impegni poi a non iniziare un nuovo sfratto per tot mesi questo è un aiuto perché come ripeto abbiamo diversi casi abbiamo riscontrato dei casi ed è chiaro che questo sfratto ci consente anche di formare una graduatoria di bisognosi di disagiati con priorità appunto per le famiglie numerose con minori con portatori di handicap e soprattutto magari situazioni già conosciute in cura dai servizi sociali quindi con queste priorità cercheremo per un massimo di 1800 euro a famiglia di dare questo primo aiuto tampone anche se è nostra intenzione poi nel corso del 2015 affrontare sempre questo tema con diversi aiuti ossia magari con canoni concordati quindi con la possibilità anche nel nostro territorio di avere canoni agevolati per le famiglie bisognose e stiamo studiando anche dei progetti per poter dare anche degli aiuti più mirati e per fasce di bisogno la pagina degli eventi domenica prossima il santuario di San Gabriele ospiterà il ventitresimo raduno degli alpini abruzzesi si prevede la partecipazione di oltre 10.000 tra ex alpini provenienti soprattutto dall'Abruzzo ma anche da altre regioni italiane e da varie delegazioni in arrivo dall'estero il raduno di San Gabriele sarà la prova generale per l'adunata nazionale degli alpini prevista all'Aquila nel prossimo mese di maggio è stato pubblicato e restiamo in Abruzzo il bando di concorso per la settima edizione del festival del documentario d'Abruzzo che si terrà a Pescara nel prossimo mese di giugno sono aperte infatti le iscrizioni al premio internazionale Emilio Lopez le domande dovranno pervenire entro il prossimo 10 di aprile i comuni di Torano e Ancarano con il patrocino Unione dei Comuni della Val Vibrata annunciano con la collaborazione dell'associazione Cose di questo mondo l'avvio della mostra interattiva denominata Non c'è acqua da perdere con il fine di promuovere una nuova cultura incentrata appunto sul valore dell'acqua dolce Non c'è acqua da perdere è una mostra che sarà allestita nel territorio di Torano nella sala funzionale di Bizzarri in Via Roma e sarà inaugurata domani 21 febbraio e proseguirà in forma permanente fino al prossimo primo di aprile la mostra si legge in una nota si propone di far prendere coscienza della crisi idrica mondiale e locale per stimolare azioni individuali e collettivi utili alla tutela di questa indispensabile risorsa in linea con l'impegno dell'UNESCO stipulato il 22 marzo del 2006 ed ora prima della pagina sportiva andiamo a seguire le previsioni del tempo per la giornata di domani in Abruzzo e nelle Marche Buonasera e bentornati a questo nuovo appuntamento con le previsioni meteo cura dell'Istituto Aeronautico Antonio Cretelli diamo lo sguardo alla grafica che ci mostra la panoramica generale per quanto riguarda l'Ap News degli Anni nella giornata di sabato come notiamo giornata di nevicate intense sulle Alpi mentre sarà una giornata piovosa in Val Padana ricordiamo che i rovesci si sposteranno anche lungo il Alto e Basso Tirenico lasciando però dei momenti di schiarite invece la situazione sull'Adriatico è nettamente migliore giornata soleggiata o poco nuvolosa in dettaglio perciò le previsioni su Marche e Abruzzo giornata poco nuvolosa o al massimo soleggiata su tutte e due le regioni le temperature massime non è previsto scelteranno tra 8 e 13 gradi vi ringraziamo per la cortesa attenzione e da Maitolo Cadaglia è tutto al prossimo appuntamento Apriamo la pagina sportiva con il calcio di Lega Pro sono in campo da pochi minuti per l'anticipo della settima giornata del girone B Sant'Arcangelo è tutto cuoio match importante soprattutto per la zona salvezza le due squadre infatti sono separate da appena due punti in classifica con i romagnoli attualmente terzultimi a quota 26 i toscani nel gruppetto delle quintultime con 28 punti in classifica nel frattempo dopo lo stop dei giorni scorsi è ripresa oggi la prevendita dei biglietti in vista del derby del Gran Sasso il programma domenica tra l'Aquila e Teramo domani intanto l'Ascoli attende al Del Duca l'arrivo del Savona inizio previsto per le 15 gli uomini i mister Petrone hanno proseguito nelle ultime ore la preparazione tutti disponibili tranne Avogadri Chiricò e Mengoni che si sono allenati a parti bianconeri hanno svolto un lavoro tecnico e una serie di esercizi di rapidità in mattinata ovviamente era previsto poi l'allenamento di rifinitura sempre a porte chiuse scendiamo in categoria in serie D dove salta un'altra panchina dopo l'esonero dell'allenatore del Celano Pasquale Luiso in panchina nel derby con il Giulianova di domenica prossima ci saranno Attilio Tuzzi e Filippo Lancia promossi dal settore giovanile una decisione secondo la società inevitabile considerando la posizione in classifica decisamente difficile dei marsicani su fronte giallorosso invece continua la trattativa per l'accessione del club Gruppo e Torre si è preso un paio di giorni di tempo prima di prendere una decisione definitiva al riguardo il Chieti si prepara invece alla trasferta di Esi con i soliti problemi di formazione il San Nicolo invece riceve la visita della Bispesa la Miternina invece incappata in un momento nero domenica ospiterà in casa la capolista maceratese e restiamo sempre in serie di la Civitanovese ha un debito di circa 870 mila euro la cifra riportata da un quotiano marchigiano oggi emergerebbe dal bilancio di previsione della società rosso blu la passività della stagione invece si aggira attorno al mezzo milione di euro il presidente Luciano Patitucci ha inviato a Civitano Marche due revisori contabili di sua fiducia documentazione due al momento sono le società accreditrici la Eurobus società in noleggio pulma che chiede il pagamento di 7 mila euro e la Perini materiale sportivo che invece ne deve ricevere circa 50 mila la nuova sede di via Martiri di Belfiore questo è un dubbio ovviamente che arriva ci sono poi tre mensilità di affitto non saldate per questo il proprietario ha fatto richiesta di sfratto ma i guai non sembrano finiti qui per il sudalizio rosso blu infatti il comune ha chiuso il rubinetto per quanto concerne il consueto contributo pubblico poi c'è la grana dei 2.900 euro relativa all'avvertenza di due ex calciatori del Cittano perfetti a Nocera o si pagano o arrivano due punti di penalizzazione ancora con la serie D annunciato a fine gennaio dopo 20 giorni la società è costretta a rinunciare per problemi burocratici al tesseramento di Sulemani Camara classe 96 ovviamente che era in procinto di accasarsi alla Maceratesi il ragazzo è cresciuto nelle giovanili del Cesena quest'anno aveva giocato in serie con la maglia del Bellaria dove con 17 gare aveva messo a segno 4 reti ed ora apriamo la pagina del basket con il torneo di Serie C dove si disputano a fine settimana le gare del ventesimo turno 4 gli anticipi del sabato mentre il resto del programma si completerà domenica compreso il confronto tutto abruzzese di Pescara alla Palalettra infatti si sfideranno Pescara e Campli leggiamo nel frattempo il quadro completo degli incontri Pisaurum Perugia Matelica Gubbio Pedaso Valdiceppo Tolentino Civitanova Roburossimo Loreto We are Basket Ortona Falconara e Pescara Globo Campli Restiamo in questo campionato nel torneo di Serie C infatti abbiamo detto che si giocano le gare la ventesima giornata nel programma spicca come abbiamo visto dal calendario lo scontro diretto tra le prime due della classe Ortona e Falconara che stanno facendo corsa a parte mentre assume un'importanza fondamentale il derby del Campli di scena come visto a Pescara con questo servizio facciamo il punto sul campionato Nella giornata nella quale si sfidano le prime due della classe Ortona e Falconara classifica la mano già proiettate verso la seconda fase della stagione del torneo di Serie C la Globo Campli vuole proseguire nella sua striscia vincente 5 successi in serie per gli uomini di Piero Millina che domenica inizio ore 18 saranno di scena alla Pala Elettra di Pescara Quello contro la formazione adriatica che nelle ultime settimane ha fornito chiari segnali di vitalità appare un altro passaggio importante della corsa dei Farnesi verso il terzo posto i Biancorossi sono in salute d'altro canto non si vincono quattro sconti diretti in rapida sequenza senza avere solide basi ma la conquista della terza piazza l'ultima utile per l'accesso alla pool promozione soprattutto in questa fase non consente cali di concentrazione Pescara poi evoca riflessioni molto più complesse la gara di andata persa in casa da Campli ha rappresentato nel bene e nel male un vero e proprio spartiacque nella stagione dei Biancorossi con l'esonero di Castorina l'avvento di Millina e con una rivisitazione del roster i Farnesi hanno poi cambiato pelle e rendimento se si considera che con il nuovo coach in panchina lo score parla di nuove vittorie e due sole sconfitte peraltro a Ortone e Falconara in una giornata nella quale però non sono previsti scontri diretti in alta classifica a parte la sfida tra le prime due che però stanno facendo corsa a parte diventa fondamentale per Campli riuscire a vincere anche a Pescara formazione da prendere con le dovute cautele sotto vari profili poi il calendario riserverà due gare consecutive in casa prima con l'Ortona e poi dopo la sosta con Civitanova torniamo al calcio con il torneo di promozione abruzzese dove sono in programma le gare della settima di ritorno c'è un solo anticipo al sabato domani alle 15 quello che vede metterà di fronte il Mutignano e la capolista Morrodoro che come noto ovviamente non ha avuto contraccolpi di fronte al ricorso del Colonia il ricorso infatti è stato rigettato quindi la classifica è stata ovviamente resta la stessa intanto noi vediamo il programma completo degli incontri Castellalto Mosciano Cerchio Santomero Colonia Fontanelle Controguerra Castelnuovo Mutignano Morrodoro come detto Notaresco Real Carsoli Poggio Barisciano Balzorano Pontevomano San Gregorio e Tortoreto Tossicia restiamo in promozione ma ci occupiamo del girone B Marchigiano domani sabato sono in programma ben sei anticipi solo due le gare Dominicali Chiesa Nuova Cascinare Potenza Picena e Montottone comunque questo è il programma completo della ventitresima giornata Lorese Montefano Loreto San Giustese Monturanese Aurora Treia Pagliare Elvia Recina San Marco Porto Sant'Empidio Settempeda Atletico Piceno Chiesa Nuova Palpidiense Cascinare Potenza Picena Montottone Ancora Marche ma scendiamo nel girone D di prima categoria l'intero programma della ventitresima giornata si disputerà totalmente nella giornata di sabato diversi gli scontri interessanti vediamo assieme il quadro completo delle gare Cento Prandonese Ciabbino Juventina Ascoli Futura 96 Monsan Pietro Azzurra Colli Offida New Generation Palmenze Castignano Petritoli Ripatranzone Piane di Morro Cuprenze Venarotta Altidona Pedaso Bene con la notizia di prima categoria si chiude il nostro notiziario noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un po' presiccimento di serata Comunpe Piotr Capricorn Azzurra Laです La taxe Che La Che Di